ciao a tutti amici con il video di oggi vi presenteremo come si fa una scarpiera per Barbie allora vi faccio vedere tutto il materiale che occorre compensato mini trapanino colla a caldo attenzione che scotta pinza cavolo come pesa io per il colore della scarpiera ho scelto un porpora però potete farlo come volete ferro pennellini righello e matitina le misure sono questo è lo schienale 10 cm 21,3 cm questi sono i bordi laterali così 21,3 x 5 cm e ne vanno due due bordi questo è il cappello della scarpiera 11,4 e 5,2 queste sono tutte le ribalte 5 ribalti io l'ho fatta 5 però si può fare con misure diverse più ribalte meno ribalte come volete voi sempre allora 10 cm per lunghezza e 4 cm per l'altezza questi sono mi siedo ai ragazzi ecco qua altri pezzi della scarpiera la ribalta 10 cm per 2,5 l'altro pezzo sempre 10 cm di lunghezza altezza 2 cm che la scarpiera dovrà avvenire così e qua ci andranno le nostre belle scarpine ora procediamo io mi metto lì bella seduta dopo che vi ho presentato tutto il materiale che ci vuole buon proseguimento ci vediamo alla fine ok 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 ecco qua ecco qua il cassetto altrimenti così parte grande guarda anche io ecco qua ecco qua ecco qua le due di le due le due tutte le due Grazie a tutti.